Fesa Comune, che programmi avete? Il primo punto del nostro programma, perché dobbiamo garantire sicurezza ai nostri cittadini. Faccio un esempio. Oggi il traffico mercantile è minacciato tra Suez e il Mar Rosso. Noi abbiamo fortemente voluto, come Italia, una missione militare difensiva, cioè che non va ad attaccare i ribelliudi, ma protegge le navi con la forza. Una sorta di esperimento, diciamo così, di vera difesa europea, perché abbiamo organizzato questa missione aereo navale in tempi rapidi, alla guida italiana, grazie a quella missione militare che, diciamo così, è inuce la difesa comune. Noi abbiamo protetto tantissimi mercantili italiani che portano merci del nostro paese verso l'Oriente. Stanno aumentando, dopo un forte calo, i mercantili che passano attraverso Suez. Altro punto, noi siamo parte della Nato, ma non possiamo stare sempre a dire agli americani venite voi a proteggere quando c'è un problema, quando c'è una minaccia, quando c'è una cosa. Quindi dobbiamo contare di più come europei all'interno della Nato, cioè essere più equilibrati e contare anche di più politicamente.